acquaroli annuncia il ritorno delle marche in zona gialla da lunedì partito a fano lo screening di massa buona la fluenza della prima giornata quasi completate le vaccinazioni per i dipendenti marche nord vismara continuano i danni e gli atti vandalici nei parchi del quartiere una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale subito in apertura l'annuncio del governatore francesco acquaroli arrivato nelle prime ore di questo pomeriggio che conferma il posizionamento della regione marche in zona gialla a partire da lunedì 11 gennaio i dettagli in questo primo servizio una boccata d'ossigeno dopo un lungo periodo di dure restrizioni con queste parole scritte sui social il governatore della regione francesco acquaroli ha annunciato che dopo il fine settimana in cui a livello nazionale saranno imposte le limitazioni appartenenti alla fascia di rischio arancione da lunedì 11 gennaio le marche torneranno ufficialmente in zona gialla sarà necessario però sottolinea acquaroli che tutti i marchigiani rimangano prudenti per far sì che il dato dei nuovi contagi non subisca una crescita repentina l'indice rt regionale è dunque risultato essere inferiore seppur di poco ad uno valore limite entro il quale rimanere per far sì che non scattino le misure più restrittive della successiva fascia di rischio da lunedì quindi sarà possibile muoversi liberamente tra i comuni marchigiani mentre saranno ancora vietati se non per situazioni di necessità salute o lavoro gli spostamenti tra regioni diverse resta comunque consentito il rientro alla propria residenza domicilio abitazione ancora attivo anche il coprifuoco sempre dalle 22 alle 5 del mattino ristoranti bar e le altre attività legate al mondo della ristorazione potranno rimanere aperte fino alle 18 da quel momento invece saranno unicamente consentiti i servizi di asporto e domicilio apertura confermata anche per negozi e centri commerciali mentre rimarranno ancora chiuse tutte le attività già interdette da prima delle festività natalizie tra cui le realtà appartenenti al comparto sportivo come palestre e piscine o quelle relative al mondo della cultura e dell'intrattenimento tra cui presenziano teatri cinema e musei a prescindere dal rientro in zona gialla le lezioni delle scuole superiori come previsto dalla recente ordinanza regionale rimarranno in didattica a distanza fino alla fine del mese queste dunque le nuove disposizioni previste per le marche fino al 15 gennaio quando verrà nuovamente osservato l'indice rt regionale sempre per venerdì prossimo è prevista la scadenza del dpcm attualmente in vigore buon esordio per lo screening di massa a fano tanta la gente in coda per il tampone sia al codma di rosciano sia fuori dalla palestra venturini a ridosso del centro storico in mattinata anche il sindaco massimo seri e il resto della giunta comunale si sono sottoposti al test il servizio è di simone celli più di un tampone al minuto sono quelli eseguiti a fano nelle prime ore dello screening di massa per il contenimento del covid 19 in un'ora e venti minuti il primo giro di boa quello delle 100 persone già sottoposte al test presso la palestra venturini numeri che lasciano intendere come i fanesi abbiano accolto di buon grado l'appello a partecipare una sensazione che diventa certezza osservando la coda di auto formatasi già un'ora prima dell'inizio fuori dall'altra location dedicata allo screening il codma di rosciano come sta andando questa prima mattinata l'afflusso è molto intenso già fin dall'apertura nella prima ora avevamo già fatto 74 persone finora tutti negativi scorre tutto abbastanza bene di buon ora all'avventurini si sono presentati anche il sindaco seri e il resto della giunta tutti pronti per il tampone e tutti poi risultati negativi sono pronto ma non solo ho convocato tutta la giunta invitandola a fare a dare il buon esempio a venire tutti a fare il tampone questa mattina questo momento straordinariamente importante è un atteggiamento responsabile per la nostra salute per la salute di tutta la comunità non bisogna sottovalutare queste cose vediamo che negli ultimi giorni anche dopo le festività la curva tendeva ad alzarsi quindi non bisogna abbassare la guardia e non fare lo screening significa avere la fotografia esatta di quella che è la situazione nella nostra città serve anche per isolare focolai che stanno per partire quindi è fondamentale sono contento non mi aspettavo una partecipazione come questa francamente se il buongiorno si vede al mattino oggi è un bel un buon giorno ci sono tantissime persone in tutte le location significa che abbiamo fatto un bel lavoro di squadra devo dire insieme la regione l'asur il comune un'organizzazione molto importante abbiamo fatto una comunicazione coinvolgendo tutte le associazioni attraverso i social attraverso la stampa e questo è un buon risultato ma mi piace sottolineare che anche un atteggiamento responsabile dei nostri concittadini e questo mi fa molto piacere e mi rende orgoglioso di rappresentare una comunità seria responsabile come la nostra presente anche l'assessore regionale stefano guzzi arrivato alla venturina alle 8 orario di inizio dello screening e già in fila dietro altre 69 persone se la partecipazione che vediamo ora continuerà così anche nelle prossime ore nei prossimi giorni è segno di grande attenzione della città di fano dei cittadini di questo territorio fare lo screening di massa è fondamentale perché in un momento come questo dove i contagi stanno riprendendo a crescere e le nostre ospedali sono in seria difficoltà in queste ore avere una mappatura dei cittadini in maniera approfondita sul territorio isolando chi pur non rendendosene conto essendo asintomatico è comunque positivo noi eliminiamo un fortissimo rischio di espansione di contagi quindi questa è l'iniziativa che ha avuto la regione Marche fortemente io questa mattina voglio fare un plauso come assessore alla protezione civile della regione anche tutti i volontari della croce rossa della appunto della protezione civile dell'ampas ma anche alle amministrazioni comunali che hanno collaborato come il comune di fano come gli altri comuni di questo territorio perché quando si collaborano insieme tra istituzioni i risultati poi si colgono sempre se qualcuno come hanno fatto in città vicine vuol fare diciamo il primo della classe poi magari non riescono neanche molto bene le iniziative comunque sono molto contento di come sta andando e complimenti di nuovo sindaco per l'organizzazione che siamo riusciti insieme a mettere in piedi c'è tempo fino a mercoledì 13 gennaio per sottoporsi al test è gratuito e non serve la prenotazione la fila scorre veloce anche in caso di grande affluenza e in cinque minuti si ha già in mano l'esito del test insomma è tutto fin troppo semplice per tirarsi indietro gli utenti si presentano all'accettazione vengono fornite tre etichette con un numero una di queste etichette va nel dispositivo diagnostico l'altra va nel foglio di refertazione la terza lo tiene l'utente una volta fatto l'esame io lo referto e consegno l'esito all'infermiera che chiama il numero con l'ultima etichetta dell'utente e lo dimette la pagina degli aggiornamenti covid legati al nostro territorio il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.796 tamponi 3831 nel percorso nuove diagnosi di cui 1965 nello screening con percorso antigenico e 1965 nel percorso guarito con un rapporto positivi testati pari al 14,7 per cento i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 564 con 112 casi positivi in provincia di pesaro e rubino nel numero complessivo regionale di nuovi positivi 62 sono stati i soggetti sintomatici rilevati ancora alto anche il dato dei decessi 15 le vittime segnalate nella giornata di ieri e 9 di queste risiedevano nella provincia pesarese e dopo la richiesta a mossa in conferenza stato regioni dall'assessore alla sanità regionale salta martini per avere nelle marche un aumento della fornitura dei vaccini utile ad avviare una campagna di vaccinazione di massa questa mattina siamo stati all'ospedale di muraglia dove si stanno ultimando le vaccinazioni per i dipendenti di Marche Nord. Continuano senza sosta le vaccinazioni contro il covid-19 destinate agli operatori sanitari di Marche Nord un'organizzazione che ha portato a somministrare fino a 400 dosi di vaccino al giorno come afferma il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera pesarese Edoardo Berselli. Abbiamo concluso la vaccinazione di tutti i dipendenti che al primo giro hanno dato l'assenso in questi giorni stiamo continuando la vaccinazione per i dipendenti che nella prima mandata non avevano dato l'assenso ma poi avendo visto il buon esempio dei loro colleghi di noi che ci siamo vaccinati e visto che non c'è stato nessun effetto negativo ma solo effetti positivi un po' alla volta stanno dando l'adesione per cui anche oggi e domani vaccineremo per noi vacciniamo a scartamento ridotto perché oggi ne facciamo 60 domani ne faremo 60 siamo arrivati a farne più di 400 al giorno facendo questi elevati numeri siamo riusciti come dicevo al 6 gennaio a fare più di 1500 dipendenti e abbiamo vaccinato tutti dalla prima adesione però che cosa facciamo? Consci dell'importanza del vaccinarsi stiamo chiamando uno a uno i dipendenti che o hanno detto no in prima battuta o non hanno espresso nessuna dichiarazione né per l'essere vaccinati o non essere vaccinati di modo che nessuno potrà dire che è rimasto escluso. Noi siamo 2088 dipendenti più 400 dipendenti delle ditte che accedono a Marche Nord e che ci siamo fatti carico di vaccinare appunto per proteggere sia loro che i malati che da noi vengono ricoverati. In questi giorni chiudiamo tutto e farò una data di last call il 18 gennaio e noi col 18 gennaio abbiamo preso tutti. Coloro che hanno espresso la volontà, la non volontà di essere vaccinati sono 90 ma di questi 90 i veri non vaccinatori chiamiamoli così che non vogliono essere vaccinati sono una cinquantina perché gli altri sono dipendenti che hanno già avuto il Covid magari l'hanno avuto in maniera recente e aspettano prima di fare una vaccinazione in quanto comunque hanno una protezione anticorpale. Avendo finito noi tra l'altro i nostri dipendenti abbiamo offerto la nostra disponibilità anche per vaccinare i dipendenti dell'Azur tant'è vero domenica 10 e domenica 17 vaccineremo più di 800 dipendenti dell'Azur. Terminate invece le vaccinazioni per quanto riguarda i dipendenti Azure che cosa succede dopo? Allora innanzitutto bisogna fare i richiami perché voi immaginate che 2000 vaccinazioni uguale 2000 richiami quindi in realtà abbiamo già prenotato date e quant'altro con la stessa organizzazione che è vincente faremo i richiami a 21 giorni dopo quelli che sono stati vaccinati. Quindi già i primi vaccinati, il Vax Day che era stato il 27 se non sbaglio, il 18 di gennaio riceveranno i richiami. Il consiglio che do a tutti i dipendenti comunque in questo momento fino a quando non avete fatto la seconda dose e non avete, sono passati sette giorni comportatevi negli atteggiamenti come se foste a rischio totale ma anche dopo faranno la stessa cosa. Diversi passaggi da effettuare prima di ricevere la dose a partire dalla compilazione della modulistica necessaria per ricevere la somministrazione del vaccino. Abbiamo un punto presso la formazione dove cominciamo a consegnare la modulistica in quel momento il dipendente segna la parte anagrafica, quindi come si chiama comincia ad autocompilare tutte le domande che vengono richieste dal ministero per valutare lo stato di salute quindi un'autocompilazione su eventuali allergie, altre cose. Una volta compilato accede, viene registrato abbiamo cercato di gestire i flussi sia perché non ci siano aggregazioni di troppe persone perché altrimenti da una parte le vacciniamo, dall'altra le aggreghiamo vengono registrati dal punto di vista amministrativo dopodiché accedono a una delle stanze di anamnesi del medico il medico ha un colloquio con il singolo dipendente e va a valutare se ci sono delle condizioni escludenti o particolari precauzioni da prendere nella vaccinazione se è tutto ok, accede alla stanza vaccinale nei momenti clou abbiamo avuto addirittura 4-5 medici che facevano l'anamnesi e abbiamo avuto fino a 8 postazioni vaccinali. All'interno dell'ospedale di Muraglia, dove avviene il processo di vaccinazione è stata inoltre allestita una camera bianca un locale completamente sterile dove avviene la ricostituzione delle dosi Dalla singola fiala vengono estratte 6 dosi di vaccino sotto K in maniera assolutamente sterile l'altra fortuna è aver potuto organizzare il punto di preparazione attaccato al punto di somministrazione per cui basta scendere a una scala, questi vaccini arrivano imbustati, sterili e vengono somministrati immediatamente quindi c'è un totale rispetto sia della catena del freddo sia della sterilità Ci tenevo a ringraziare tutto il personale che si è dato disponibile sono venuti tutti in maniera volontaria e c'è stato un bellissimo lavoro di squadra, di organizzazione quindi se voi vedete ci sono amministrativi, infermieri, medici, farmacisti tutti che lavorano insieme e questo è stato secondo me il valore aggiunto che ci ha permesso di raggiungere questi numeri Rivedere il meccanismo dei ristori, una maggiore programmazione e nuovi aiuti provenienti dal prossimo scostamento di bilancio è quello che hanno chiesto ristoratori e albergatori del territorio pesarese durante l'incontro avvenuto questa mattina con il sindaco Matteo Ricci dopo il sit-in organizzato nella mattinata di ieri all'interno della sala consigliare Il primo cittadino ha quindi confermato l'intenzione di portare le richieste avanzate dalle categorie di lavoratori sui tavoli regionali e nazionali Dai ristoratori è arrivata inoltre la richiesta di un'intensificazione dei controlli All'incontro erano presenti anche l'assessore Frenquellucci e la consigliera regionale Michaela Vitri La Regione Marche informa che dal 15 gennaio sarà possibile presentare la domanda per 160 borse lavoro destinate a disoccupati adulti over 30 e 60 borse di ricerca destinate a giovani laureati under 30 La Giunta regionale nell'ultima seduta ha rifinanziato un'attività che dal 2019 al 2020 aveva già dato ottimi risultati con l'assegnazione di 1.197 borse lavoro e 324 borse ricerca per giovani laureati La borsa di ricerca ha una durata di 9 mesi, quella di lavoro invece di 6 Gli avvisi pubblici con tutte le informazioni utili sono pubblicati sul sito www.regione.marche.it nella sezione Regione Utile, Lavoro e Formazione Professionale Il progetto Merachi, sostenuto dal Comune di Pesaro e dal Comune di Vallefoglia si aggiudica alla terza edizione del bando Aggregazione della Regione Marche ottenendo il contributo di 44.980 euro Tra gli obiettivi del progetto presentato dall'associazione Capofila Zoe la promozione di nuove forme di aggregazione e lo sviluppo culturale dei giovani E questa mattina anche nella provincia di Pesaro e Urbino sono caduti i primi fiocchi di neve anche a bassa quota Le immagini inviateci da un telespettatore ritraggono Monte Ciccardo appena imbiancato alle prime luci del giorno La neve sempre questa mattina ha toccato anche la città di Urbino Sono state consegnate questa mattina all'ufficio protocollo del Comune di Vallefoglia, Sant'Angelo e Lizzola le prime 2000 firme raccolte dall'associazione Diversamente per confermare la posizione contraria alla realizzazione del biodigestore a Taracchio L'intervista è realizzata da Andrea Sabatini e alla Presidente dell'associazione Andrea Torcoletti Siamo venuti a Sant'Angelo in Lizzola alla sede del Comune di Vallefoglia per consegnare il primo plico con 2000 firme raccolte grazie alla collaborazione di tutti gli associati dell'associazione Diversamente che è stata creata il 22 ottobre Continueremo il nostro impegno nella raccolta sia online che la raccolta cartacea Questa è la seconda azione che facciamo nel 2021 Il 2 di gennaio abbiamo consegnato in provincia le nostre osservazioni all'istanza presentata il 18 di novembre 2020 da Green Factory per la verifica di assoggettabilità a via alla valutazione di impatto ambientale Abbiamo chiesto che venga dichiarata la non procedibilità in via principale in quanto non c'è il rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti Nel caso non dovesse essere dichiarata la non procedibilità abbiamo anche chiesto che almeno venga dichiarata la assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale perché crediamo che questo procedimento possa unire o creare la sintesi tra gli interessi pubblici e privati in modo efficace ed efficiente e soprattutto garantire trasparenza e pubblicità Come anche nel precedente intervento che ho fatto davanti alla provincia vorrei a nome dell'associazione nuovamente chiedere agli amministratori del Comune di Vallefoglia che cosa intendono fare nella conferenza di servizi quale sarà la posizione ufficiale degli amministratori visto anche che il Consiglio Comunale di Tavuglia ha dichiarato la propria contrarietà in maniera unitaria, minoranza e maggioranza alla localizzazione del biodigestore a talacchio di Vallefoglia chiediamo quindi nuovamente che si esprima all'amministrazione di Vallefoglia e che faccia sapere alle migliaia di cittadini che hanno aderito alla nostra raccolta firme qual è la posizione e come intendono tutelare tutti i cittadini del Comune Un'ultimissima cosa, hai parlato di una prima tranche di 2.000 firme questo vuol dire che ce ne sono altre, la raccolta continua, tanti cittadini hanno risposto Sì, nei prossimi giorni porteremo ancora migliaia di firme che già abbiamo e che continuiamo a raccogliere le presenteremo anche in provincia stiamo valutando l'opportunità di presentarle anche in altre sedi crediamo che la nostra opposizione vada manifestata in tutte le sedi opportune a garantirci una visibilità e soprattutto che ci venga manifestato un interesse cosa che oggi non riscontriamo dai nostri amministratori Ci spostiamo ora a Vismara per parlare di alcuni atti vandalici che hanno interessato i parchi giochi del quartiere atti ripetuti nel tempo la cui conseguenza diretta è il danneggiamento di alcune strutture gioco e non solo, destinate alla comunità Vediamo il servizio Anche nell'ultimo periodo i parchi giochi del quartiere Vismara sono tornati ad essere protagonisti di atti vandalici da parte di ignoti Nell'area di via Basento, oltre alla molteplice sostituzione delle porte da calcio si è deciso di installare una lastra di metallo nella finestrella della casetta in legno che più volte è stata distrutta per poter accedere all'interno della struttura Dello stesso tenore risultano essere i danneggiamenti segnalati nell'area giochi privata ad uso pubblico di via Danubio presa di mira da veri e propri atti di danneggiamento intenzionali ad opera di sconosciuti Volevo in primis segnalare che questo parco è un parco privato ad uso pubblico e di conseguenza il comune non è tenuto a fare della manutenzione né ordinaria né straordinaria perché ha già i parchi suoi da seguire e i nostri parchi comunali sono anche abbastanza tenuti bene vedi il parco ex nuovo di via Altarello che abbiamo fatto da poco e anche la manutenzione del parco di Vismara sul quale ci stiamo impegnando anche se abbiamo avuto in continuazione degli atti vandalici però tramite i volontari e tramite anche il comune siamo riusciti a sistemarli al momento Per quanto riguarda questo parco i giochi sono stati messi penso molto probabilmente dalle ditte che hanno come opera di urbanizzazione e i giochi non sono usurati nel tempo perché hanno pochi anni sono come vediamo rotti da atti vandalici perché proprio sdradicati dei pezzi di legno di truzzolare proprio schiantati abbiamo delle sedute a semicerchio sono in legno messe con delle viti abbastanza importanti proprio sdradicati abbiamo trovato dei veti dei volontari del quartiere proprio consigliere di quartiere che è venuto a pulirli qui si tratta di atti vandalici continuativi nel tempo che purtroppo si fa fatica a gestire e il comune non è tenuto a fare la manutenzione quello che si può chiedere è eventualmente se si ritiene che siano pericolosi se possono toglierli il quartiere di Vismara ha avuto particolari attenzioni dall'amministrazione comunale in questi anni dall'apertura della strada attesa da anni di collegamento tra Vismara e Catabriga l'inaugurazione del campo di calcio abbiamo sistemato l'area giochi di fianco alla circoscrizione abbiamo riqualificato completamente il parco di Via dell'Altarello oggettivamente prima di intervenire e devo essere sincero a dire la verità sulle aree non di proprietà comunale dobbiamo intervenire sui giochi e sulle aree giochi nostre abbiamo riqualificato circa 20 parchi giochi negli ultimi 18 mesi e continueremo a farlo ripeto cercheremo di avere più attenzione magari di sollecitare un pochino più di controlle ma quello che è importante è che se qualcuno vede gruppi di ragazzi che si divertono a fare i danni nel parco giochi non è che lo scrivono su Facebook o si girano dall'altra parte ma magari gli prendono il numero di targa del motorino li segnalano e forse magari se sbattono il muso imparano in chiusura allo sport con l'annuncio in casa a Vispesaro del rientro per fine prestito anticipato alla UC Sampdoria del difensore Tommaso Farabegoli sempre la società biancorossa annuncia che da lunedì 11 gennaio inizieranno i rimborsi degli abbonamenti i tifosi abbonati dovranno recarsi al botteghino della tribuna centrale per ritirare il coupon valevole per una maglia da gioco o per maglietta e pantaloncino di allenamento gli orari di apertura del botteghino in via Simoncelli saranno dalle 17 alle 19 da lunedì 11 a sabato 16 gennaio compreso questa era davvero la nostra ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo la prima serata su Rossini TV che questa sera vede protagonista una commedia messa in scena nelle scorse edizioni del Festival GAD stiamo parlando dell'anatra all'arancia che potrete vedere quindi su Rossini TV questa sera alle 21.15 torna puntuale domani mattina l'appuntamento con l'informazione su Rossini TV la rassegna stampa e la lettura dei quotidiani locali alla conduzione ci sarà Marco Cadedu domani mattina quindi in diretta a partire dalle 7.20 protagonista sempre sabato su Rossini TV sarà anche lo sport con il match che vedrà impegnata Little Service Pesaro contro Fendi Eboli l'appuntamento in diretta su Rossini TV vi aspetta quindi domani a partire dalle ore 16 vi ricordiamo inoltre che torna da lunedì l'appuntamento con Casa Rossini il programma condotto da Paolo Pagnini con cui potrete interagire inviando i vostri messaggi al numero di Whatsapp 3517089977 oppure tramite mail a casarossini chiocciolarossinitv.it l'appuntamento quindi torna in diretta lunedì mattina alle 10 e poi in replica alle 16 e alle 22 termina qui questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV grazie per averci seguito